Ciao a tutti, scopriamo insieme quali figure cela il dipinto a differenti orizzonti? Elefanti di profilo, le quali i probosciti formano le zampe del grande cervo. Una maschera, a ricordarci della scelta costante tra il bene e il male, il volto di una donna, una mamma, ogni presente nel bambino che in noi. Un uomo rischia tutto e si tuffa nel mare per esplorarlo, mentre un altro avanza verso di noi ad accoglierci. Adesso rimettiamo al proprio posto le differenti figure del dipinto, così come il mondo riunisce le differenti culture, i differenti credo, i differenti orizzonti, tutti uniti sotto lo stesso cielo a vivere pienamente le nostre vite. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.